il 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 si è partito a pigliare la gattina non potete partire la gattina a piedi ovi da me ne vediamo 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 batteno da sopra se giro a tornato non puoi andare avanti scopo faccio io sono pregando vediamo batteno da morisci che bella cosa eh 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 battene peggio tanto peggio mamma mia